Perché tutto il territorio intorno al lago di Tiviluco e fino alla Piana Ratina era già in epoca preistorica utilizzato per, cioè veniva prodotto il ferro, perché è un tipo di acqua particolarmente utile a questo. Chi di voi sa che c'era una grandissima necropoli sotto l'acciaieria, quando era distrutta, era una necropoli forse dalle più grandi in Italia, con un numero enorme di interramenti, 1200 mi pare, che fanno sospettare che ci venissero a seppellire i morti anche da altri villaggi, perché il villaggio, diciamo, preesistente nella zona di Terni non giustificava un numero che si è elevato di interramenti. Tanto che l'ipotesi più accreditata sia che ritenessero la cascata, quello che era all'epoca la cascata, che era un bruscellare di acqua per la parte alta, e l'ingresso dell'ale. Dove essere un luogo piuttosto difficile da avarcare, infatti i terramenti sono tutti in posizione penale orientati verso est. Marmore pare in lingua celtica, voglia dire proprio l'oriente. Allora, questi due diorami e poi c'è un videomapping che descrive la storia, quindi adesso lo possiamo ascoltare. Prego, entriamo nella cascata. Grazie. Grazie.